ciao ragazzi ciao ciao a tutti sta entrando il nostro camper dei poveri lullina basta con la nostra swag che sta guidando ma ci sono delle sorprese vero swag e prima di tutto dovresti avere oggi se non sbaglio i nomi di chi ha vinto il nostro quiz cioè il tuo quiz sì ciao ragazzi grazie per aver partecipato così numerosi al quiz con swag le risposte giuste erano pop cheer lil pink baby e 80s hog i nomi i nomi che sono stati scelti sono ma matteo passe matteo passerini giorgia per gentili carmel candito giulia rustico diana venezia angelo donato sissi kawaii anna laura e ginevra unicor e arianna ma ovviamente bravi tutti se volete giocare ancora dovete iscrivervi al canale e lasciare un like e vedere il video fino alla fine perché ci sarà un altro qui wow grazie swag ma nel camper c'è qualcosa di carino hai notato larina c'è un air goals quindi io direi che potremmo anche aprirla si rollina usiamo il camper come contenitore in una nuova air goals ci facciamo questo bello un boxino insieme vediamo chi esce fuori sperando di non averla già come sapete noi praticamente puntiamo adesso a trovare rainbow raver quella ci serve vorremmo tanto trovarla è bellissima e insomma allora questa lattina questa lacca pesava 276 grammi ve lo dico perché magari il peso può essere utile e si le altre erano piuttosto pesanti vai comincia la vacca vai ecco ok ok allora la bomboletta è rosa non c'è tanto inizio c'è o l'indizio eccolo qui allora c'è che è pixi pixi cut è un po qual è pixi cut c'è una fatina e una forbicina e questo invece è l'altro adesivo con i fiocchettini da per decorare le nostre lol o quello che volete voi grazie grazie l'ora invece sta combattendo con il secondo strato dove posso così per fare il filo di arianna esatto le istruzioni ovviamente ve lo ripeto per la mille ottocento e novantesima volta contengono lo specchietto quindi vi direte ah l'istruzione non mi servo a niente e poi invece ci ho specchietto ok salta lena muoviti muoviti metto la lacca malina ti mordo oggi questa la mordo dentro è fucsia e dietro è corto ecco interessante perché alcuni hanno la scocca molto lunga e mi sa che quindi rainbow river non è perché tecnicamente dovrebbe avere tanti capelli e la lacca dovrebbe essere gold se non sbaglio no mi sa che gold è soltanto edibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Lola sta cercando di staccare il primolino Ma ok è nato Hashtag primolino Ma chi ci sarà qua dentro Lollina piantala Zitta ferma bloccati No va bene Lollina intanto siediti Sì grazie mi vorrei accomodare Aspetta non mi far cadere Non è capace Ha aperto 100 miliardi di tolle E ancora non ha imparato No no lo voglio Sieditici tu Io Posso aprirla? Va bene Tanto quella sta là che fa il primolino Per due anni Aspetta i bicodini Ah vuoi partire da quelli? Sì Qui penso che ci siano le scarpe Allora fiocchetto nero Nero Il mio colore preferito Mi ricorda qualcosa nero Ok poi Poi Possiamo questi Poi Il vibero Trasparente Mi viene da cantare Cosa? Jingle bell Jingle bell Jingle Ma perché è Natale? Mi viene un po' in mente il Natale Ma scuola il Natale è tutto rosso Verde Eh tra un po' vedrai Ah se lo dici tu Vai vai Apri 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 Verrà in mente anche Occhiali Belli Questi mi piacciono parecchio Mi li fregherei io Lolina E sono da sole Sono come i miei Ti stanno veramente Guarda Perfetti Rimettiteli Avanti Aspetta Altra bustina Questa Ce ne siamo già Gli occhiali da naso E' matta Niente Questa ragazza Gli occhiali da naso Che c'è? Scarpette Nere Io ho già capito No Diverse No non sono diverse Sono uguali Eh ma nel nostro caso Sono diverse Ho capito cosa dice Lollina Perché Il nostro È Lollina La nostra lol Le ha diverse Perché non so Che fine hanno fatto Vai avanti con le bustine Ti è rimasto Vai È Lollina Adesso anch'io Comincio a cantare Vabbè Allora Ah Oddio per un attimo Credevo che Una cosa Dopo vi dico Cosa? Vedete il vestito Di Babbo Natale? Ecco Questo è il vestito Di Babbo Natale Hai capito Perché mi fa pensare A Natale? Ah Non ho ancora capito Lara Però io sì Però io sì Tra un po' Capirai anche tu Vai apri ancora Che è rimasto? L'altarina L'altarina Non serve a niente Adesso non l'aprire Eh sì A Natale si mangia Il pandoro Eh sì C'è fesciano Il nostro Poof Io Sono fesciano Guardate Adesso il nostro Si è un po' spettinato Nel tempo Quindi questo che è bello nuovo Potrete notare meglio La conformazione a nido Sì in effetti C'è proprio questo cerchio È buffo proprio Con questi capelli Però dai È carino Ecco Eh bella idea Lara Il porta Porta biberon Ma che cosa Mi togliete questa cosa Aspetta Ma che cosa Mi stanno facendo Queste ragazze No niente Benvenuto tra noi Tanto non ti terremo Ma come Mi avete appena scartato Già mi cacciate No ti scambieremo Perché Sei doppio Ah Eh già Sì ti abbiamo scartato Pensa Sei stato L'altro La prima Airgolds Wave 2 Aperta su YouTube Nel mondo Veramente Sì A mappa E io Sério tu tardi Sapete questa cosa Praticamente Che cosa Praticamente Nessuno Nessuno Nemmeno Nemmeno in America Aveva trovato Fesciano È vero È vero E noi siamo stati Tipo le prime Il primo Fesciano Aperto È stato lui In tutta YouTube Esatto Sì perché Come vi dice Come saprete già Se ci seguite Le Airgolds Wave 2 Sono arrivate Per prima in Italia È stata Veramente un'anteprima Fantastica E c'è arrivata Questa bustina Da giochi preziosi E abbiamo trovato Come primo Proprio il lollo Quindi Bellissima Bellissima cosa Ebbene Dimmi Che poi era l'altro Tipo I canali americani Sì Sì è vero Ci hanno nominato Scusa Ma perché hanno detto Barbara D'Alessandro E non hanno detto Lolina Eh non lo so Ma sì l'avranno detto Ma l'avranno detto Perché Perché No perché quando Cioè bisogna citare I canali No giusto Sì in effetti Lolina sì È perché Chi ha pubblicato Non sempre Succede Barbara Eh ho cap Ti è Ti è Ah sempre A sottolineare La mia Subordinazione In questo canale Vabbè almeno Sono glitterata Va che bella Che sono Ridammelo Ah Ok Allora niente Fesciono Ti lasciamo così Non ti vestiamo Perché ti rimettiamo Bello preciso E ti scambieremo In qualche fiera Oppure in qualche evento Oppure in qualche scambio Lol Oppure insomma Comunque sia Ti scambieremo Eh vabbè sono contento Ma vado su youtube Sì Mamma mia che bello Quindi comunque Mi potrò rivedere Mentre mi scartavano Eh sì infatti Quasi quando canteremo Tutti i jingle bell Penseremo a te Ma è sempre così antipatica Eh non è antipatica È un po' particolare Ah va bene Ok Comunque sono onorato Di essere stato aperto In questo bellissimo canale Bene Ma Ok Vai Perché Perché io dobbiamo fare il quiz Ah ok Ciao ragazzi Eh vado Vai vai Vado eh Vai Vado vado Vai Ok adesso Deve entrare la nostra swag Con I nuovi Oggetti Oggetti I nuovi oggetti Del quiz Visto che vi è piaciuto così tanto Avete commentato in tantissimi Ve lo rifacciamo Bene ragazzi Questi sono gli accessori Dovete indovinarli Vi faccio vedere Borsa numero uno Cerchietto Accessorio numero due E accessorio numero tre E accessorio numero tre Sei stata brava Sono abbastanza facili Eh Questi quantomeno sono facili Questo è un po' complicato Però secondo me I tipitini sono super bravi Quindi ce la faranno Ragazzi Quindi grazie di aver visto questo video E iscrivetevi al canale Per poter giocare con noi E per essere salutati E per avere le notifiche E non perdere neanche uno dei nostri video Abbiamo modificato un pochino La programmazione Per il mese di agosto Quindi ve lo facciamo vedere Ve lo scriviamo Forse ve lo scrivo anche in descrizione Ma ve lo farò anche apparire Su in alto Nella copertina del canale Quindi vedrete Quando verranno pubblicati i video Perché saranno Un pochettino Su questo canale Un pochettino Sul canale della posta di Babu In modo che vi potremo Tenere compagnia Per tutto quanto Al mese di agosto Senza buchi Ma insomma Possiamo fare Un pochino di vacanze pure noi Grazie per aver visto il video Spero che vi serei divertiti Ben arrivato a questo fesciano Quindi saprete già Che nelle prossime fiere Avremo un fesciano Da scambiare con voi Insomma Ragazzi Un bacio a tutti quanti Poi ci sono i canali I bollini dei canali Qui qualcosa di carino Da vedere dopo Ciao ragazzi Un bacione grandissimo E continuate sempre a stare con noi E soprattutto Con l'allina Ovvio Ovvio l'allina Ovvio L'allettina più bella Dell'universo Ah grazie Quando sei così carina Quasi quasi Non mi va di prenderti La carta di credito Per comprarmi il glumper L'allina Basta con questa storia del glumper Già lo sai Stanno dicendo tutti che è bellissimo Quale? Quello lì? Sì Vabbè Me ne farò una ragione Intanto mi prendo Questa bella porzina L'allina L'allina Mi serve per il mio quiz Ciao ragazzi Sì Sì